Daniele Toto, l'altro Abruzzo, come andare oltre i partiti tradizionali, verso però sempre il centro-destra? Il punto di partenza è una regione in crisi, una regione che comunque ha punito i partiti tradizionali e quindi c'è uno scollamento tra il territorio, i cittadini e la proposta politica. E quindi da questo punto di vista il punto di partenza è appunto il territorio, capire e captare quelle che sono le esigenze e dare una risposta che non può che essere politica certamente. Il progetto politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali della nostra regione ad iniziare proprio dalle elezioni della regione Abruzzo? Sono molto appassionato della rappresentanza e della testimonianza. Credo che però una politica si faccia attraverso la rappresentanza, la testimonianza la lasciamo a qualcun altro. Quindi dobbiamo declinare una proposta politica, senza dubbio, in attesa delle prossime elezioni, certo. Come è nato questo progetto? È nato ascoltando i territori e comprendendo quanto sia difficile in questo momento per i cittadini abruzzesi trovare una risposta a quelle che sono le esigenze di una regione che è totalmente prostrata in questo momento nei dati economici e nella necessità del lavoro. Alla presentazione di questo progetto l'Alto Abruzzo non passa inosservata la presenza di Fabrizio Di Stefano? Io seguo con attenzione tutto ciò che si muove in politica in Abruzzo, soprattutto le novità. Questa mi pare un'ottima novità, cioè quelle espressioni civiche, che tra l'altro rappresentate da personaggi qualificati come Zegli, come Toto, come gli altri che si daranno al tavolo. Credo che sia una importante iniziativa. Chi fa politica, chi ama la politica, deve sapere ascoltare il territorio, ascoltare la gente. Allora sono venuto a ascoltare e ritengo che sia obbligo da parte di chi vuole poi proposi per interpretare la volontà dei cittadini prima ascoltare e poi eventualmente valutando prendere delle scelte.